Vitto e alloggio per i migranti pagati dallo Stato con l'otto per mille. È un nuovo duro attacco alla gestione dei fondi, quello che lancia il governatore Luca Zaia da Palazzo Balbi. E c'è una proposta, ancora prima di denunciare quello che il presidente del Veneto giudica un utilizzo sbagliato di questi denari. L'idea è quella di regionalizzare i fondi, ovvero l'otto per mille resti, dice Zaia, in Veneto, dove di certo sapremo usarlo meglio, dandone conto euro per euro alla gente, come abbiamo dimostrato con l'alluvione del 2010. La diversa destinazione di contributi simili, infatti, per il presidente deve essere quella legata alle emergenze. Misure urgenti, come nel caso delle calamità naturali. Tanto per non andare troppo lontano nel tempo, ricorda il governatore, per la tromba d'aria che ha devastato la riviera del Brenta sono arrivati da Roma pochi spiccioli. 150 milioni, continua Zaia, sono stati promessi, ma non un euro è ancora arrivato per la frana del cadore, costata la vita a tre persone. Zero per la tromba di mare che ha distrutto spiagge, infrastrutture e coltivazioni a Chioggia. Secondo il presidente del Veneto, in cima alle priorità di cui il governo dovrebbe occuparsi monetizzando l'aiuto, ci sono proprio questi capitoli, se vuole davvero pensare ai suoi cittadini, aggiunge Zaia. La povertà nella quale si dibattono migliaia di famiglie italiane e venete, stroncate dalla crisi e dalla disoccupazione, può essere arginata anche con il loro 8x1000.